Che ore sono? 12? Sono le 12 e è ora di chiudere, si va in bici ragazzi No Tu perché non vieni? Io non vengo perché ho avuto un incontro ravvicinato con una pianta tempo fa Del terzo tipo? Del terzo tipo, era una pianta animata Che! 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 Che molto bello, anche la parte finale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti